Il Vangelo di oggi ci pone davanti a un grave problema, che gli operai sono pochi. Non si tratta solo di vocazioni al sacerdozio o alla vita consacrata, ma di vocazioni alla famiglia e al servizio per la comunità parrocchiale. Sembra ci sia oggi una crisi esistenziale, una paura diffusa del sacrificio per qualcuno o per una giusta causa. Perché? Perché i più giovani sono sempre più lontani dalla Chiesa, dalle parrocchie, dall'impegno pastorale. I giovani sono pieni di entusiasmo e pronti a donarsi per qualcosa che valga la pena. Purtroppo gli adulti non solo non sono più capaci di esprimere una retta e credibile testimonianza di vita cristiana, ma si spendono nel giudicare i ragazzi senza essere guide silenziose e presenti e dar loro fiducia. Ecco il compito di oggi, fare un esame di coscienza sul nostro modo di testimoniare Cristo davanti al mondo e ai ragazzi e pregare per le vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e alla vita di famiglia. Sei un buon testimone dell'amore di Cristo in mezzo ai tuoi conoscenti, preghi per le vocazioni, vivi con entusiasmo la tua fede e in caso contrario che cosa ti impedisce di farlo?